Lo Zoo di 105 presenta Zohollywood Stiamo girando i nuovissimi film dove l'attore protagonista potresti essere tu Zohollywood Titolo del film Delitto al ristorante pugliese Attori protagonisti Alan Caligiuri nella parte di Ermonnezza e poi alla fine è Thomas Millian Il dona nella parte di Venticello che poi tra l'altro è Bombolo E poi altra gente strana che uno sembra pure Jimmy il fenomeno Aventice Dimmi che è stato a fare sto c***o delitto Su, su, aspetto Io non so niente Non ho fatto niente Aventice A me cazzate non le devi dire Vi è qua, vi è qua Lo vedi questo? Sì Aia Aia Ma non ho fatto niente Stavo con gli amici Mi armarra Ma sì? Guarda che bell'unghia Guarda Aia 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 Tu non sei proprio un c***o Vero? Non so niente Ti ho già detto Allora Venticello Io non ti chiudo il gabbio per la storia della vecchietta Grazie aspetto Grazie Ma tu mi dai la mano a me E che devo fare? Intanto guarda sta mano Vediamo faccia vedere Aia Vengo aspetto vengo Ah signor Sono il commissario Chi è? Sono il commissario Commissario? Sì Chi è il commissario? Sono il commissario Voglio sapere ma Secondo voi Chi l'ha ucciso è Il pugliese? Ho capito Chi è tu sei? La polizia Fa un c***o la polizia Ma come te stai a parlare? Chi è? Io voglio sapere ma Sa qualcosa sul delitto del pugliese? Che c***o vuoi? Pezzo di merda Scusi signor Gli puzza io d'ora Pezzo di merda Che vuoi? Stroncio Ah ma vi passa venticello Datti da conoscere Pezzo di merda Pronto? Di chi sei? Stroncio Dacate mano E datte una p***a Pezzo di merda Datti da conoscere Pronto? Non ci siamo capiti Signor Ma come c***o sta a parlare signor Non ci capisco un c***o C***o tu sei Che rispetto Che? Ah signor Oh Sor commissario Girardi Mi sente? Chi è lei? Sor commissario Girardi Ho sbagliato Beh non mi fai il c***o Occhio Allora Ho sbagliato capo Che devo fare domande? Signor Che cosa hai fatto? Allora Ieri sera Al ristorante del Pugliese Dove? È il ristorante del Pugliese Ha sbagliato di nuovo Ma non hai sbagliato? Ah ieri sera c'è stato l'omicidio? Sì Di solito Aventicela Spiegaglielo tu Signor Franco Non mi metta giù Il commissario Mi picchia Scusi Adesso lei mi stava Un momento Proprio Ha capito? Eh? Ora si riesca Ho chiamato la polizia adesso Siamo noi la polizia Signor Franco Siamo noi adesso Che chiamo io la polizia E si mette E venimo a prendere Sì Ah Franco Non mi fai cazzare Che cosa vuoi dire? Sono commesso a girare Girare di forte Come da tutti i coglioni Ma vengono e te teneo la pizza Ehi Mi chieda l'idea Non mi fai cazzare Che cosa vuoi? Sì Tu hai visto tutto il ristorante? Me devi di che è stato? Ah Franco Ci ha detto che tu sei stato Sei complice E venimo a prendere Sì sì Coglione Non mi fai incazzare Che sto in nervosia Che cazzo Sono commissario Come te le dici Dove cazzo Mi trovo questo ristorante? Allora Franco Sto ristorante Se trova in centro È il ristorante del Pugliese Dove? Che via? A via Manzoni Ma io non so stato mai A via Manzoni Quei coglioni Non me prende per culo Ma mi fai il coglioni Sto ristorante Sei morto A venti c'è E dica come sa Tu non me stai aiutà Quindi io L'omicida Non l'ho trovato Ma è stato Franco? Non so stato io È stato Franco Sai che te dico venti c'è? Che me dice spettotto? Che i gusti sono gusti Come disse il gatto Mentre se necca il c***o Lo Zoo di 105 Ha presentato Zoo Hollywood Ci vediamo al prossimo film Zoo Hollywood Secondo me